Se volete aiutarmi a fare più Pink Slips e Contents nel mio canale, acquistate i vostri crediti da FIFA Ultimate Team Coins. Troverete il link qui sotto in descrizione. Siamo qui nel vivo della partita del Pink Slips, del Glu e Gondogan contro quel famoso avversario di cui vi avevo già accennato nel video del vlog. Siamo qui, ci siamo riusciti finalmente a connetterci, quindi siccome è riuscito estratto, e quindi ora stiamo giocando i Pink Slips. Intanto qui il tiro maestoso, merdoso di Schweinsteiger. Due Gundogan in palio, vediamo come si procede questa partita. Bassa! Neuer, sicurissimo, non fatelo tirare. Il tiro di Roy, sparata sicura di Neuer. No! Non ci ho capito un cazzo in questa occasione. Faffanculo, ma che cazzo di merda proprio! Ma non è possibile! Non ci ho capito niente in quell'occasione che è successo, che è andata! Ma non ci ho capito un cazzo di niente! Ma che cazzo hanno fatto? Ma vabbè, continuiamo dai. Per Robben! Robben, il tiro di Robben! Robben! Sì! A quarantesimo! A quarantesimo, Arjen Robben! So che lui è un micidiale tiratore, e l'ha dimostrato anche questa volta, 1-1. Finisce quindi il primo tempo, 1-1. Diciamo, equilibrio, in questo primo tempo, pari nei tiri, possesso avversario. Andiamo a vedere. Per Robben! Robben ci arriva di testa, non dovevi tirare di testa. C'è Roy, si fa lo tattico. No! Grande Neuer. Alaba! Mamma mia, che parata di Neuer! Bellissima questa parata di Neuer. Vai a marcare, Royce! Attenzione, Alaba! Cross per Navas. Ci arriva Alaba. Corner pericolosissimo. Mamma mia, 63esimo questo corner. Andrà, chi cazzo è? Attenzione, attenzione, attenzione! Non è rigore, non è rigore. No, sbagliatissimo! No, Robben per Gondogan. Gondogan, di giro di Gondogan! 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 Incai Gondogan! Incai Gondogan, al 69esimo, quel che? Se ne doverò andare dal no club, se ne perdo. Invece mi segna al 69esimo. 2-1, dai così ragazzi, dobbiamo farcela. Per Royce! Vai Royce! 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 73esimo! 3-1, Marco Royce! Tra sé già bene con Pierre Minica, Obama e Bianchi. I due si tendono veramente alla perfezione. E così è stato al 73esimo. 1-2, micidiale. E Royce, con la punta dell'aluce, la infila. 3-1. Script. Eh già, è il gioco. Non è un problema mio. Quante volte è successo a me di essere scriptato nella partita. Per Obama e Bianchi. Per Obama e Bianchi. Il tiro! Fuori! Cosa si è mangiato qua, Obama e Bianchi. Cosa si è mangiato, Obama e Bianchi. Finisce qui, dunque, sì. Ci teniamo. 2-1. 2-1. Spero di aver concluso tutta la vicenda con il mio avversario. Spero che ora sia contento che abbiamo finalmente giocato i Pink Slips. E quindi, che dire, i Pink Slips di due gondola si conclude qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canzone se siete già iscritti. Mettete mi piace alla pagina Facebook se volete partecipare a Pink Slips. E noi ci si vede ad un prossimo video. Ciao, bella a tutti e al prossimo video. Finito il match ho dato al mio avversario 5K. Perché? Perché io come un coglione avevo fatto un accordo nel quale se vincevo io gli davo 5K. Se per deboli gli davo 10K. E quindi, giustamente, gli ho dato 5K. Perché andando a rivedere le conversazioni, ho notato che avevo sbagliato. E quindi, ora abbiamo fatto pace, si è tutto concluso, siamo tutti nella tranquillità ed è meglio così. E noi ci vediamo domani con il nuovo video.